Il libro Agata, storia di una santa, è stato presentato stamani presso la Basilica Colleggiata di Catania e racconta la città e i tempi della Santuzza, la sua vita, i martiri e le torture subite dalla giovane Agata, proprio come se si stesse raccontando le avventure di un eroe della Marvel. A presenziare l'incontro l'Arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Cristina, che ha sottolineato l'importanza del libro, soprattutto per i più giovani. È bello che sia le nuove tecnologie, sia i mezzi, potremmo dire, tradizionali, siano valorizzati anche per far conoscere questa ragazza, questa santa, che ha tanto da dire anche oggi.